41 partite fa i Clippers sono stati gli ultimi capaci di vincere a San Antonio Chris Paul contro Tim Duncan, ma c'è anche Quai Leonard, solita gara di estrema sostanza 20 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, i Clippers hanno perso 2 delle ultime 3 contro Kevs e Thunder altro esame importante per i ragazzi di Doc Rivers, Patty Mills dopo aver perso lo scarpino qui non può difendere a dovere su Chris Paul che ne approfitta prendendo il centro del pitturato 9 su 16 nella serata per CP3, Tim Duncan scolpisce un altro record, 6 punti e 7 rimbalzi ma con questo tap in supera Avlicek al 14esimo posto nella classifica marcatore di tutti i tempi della NBA ancora una volta, fenomenale il Caraibico, i Clippers vanno dell'uomo più caldo ovviamente Chris Paul che con un ripetuto crossover porta a scuola la Marcus Aldridge 22 punti e 8 assist per il playmaker che poi inventa ancora per l'attacco di Los Angeles DeAndre Jordan assembla doppia doppia da 16 punti e 14 rimbalzi è nel secondo tempo però che i nero-argento cambiano passo, cambiano marcia anche con il contributo dei panchinari che segnano 51 punti rispetto ai 20 solamente di Los Angeles 13 in 15 minuti per Manu Ginobili complessivamente gli Spurs tirano quasi con il 54% dal campo piazzando un parziale di 37-17 nell'ultimo periodo Patty Mills chiude con 15 e 6 assist Green con 12 e 4 su 5 dall'arco sono i canestri che lanciano la fuga buona per San Antonio il finale 108 a 87 per gli Spurs alla 33esima vittoria casalinga su 33 quest'anno e fanno 12 successi nelle ultime 13 i Clippers invece ormai sono quasi rassegnati al quarto posto che significherà incrocio eventuale in semifinale contro i Warriors il finale il finale il finale il finale